Suonerà lunedì la campanella per i circa 110.000 studenti padovani pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico, dalla prima elementare alla quinta superiore, tutti sui banchi di scuola fino al prossimo giugno per un'annata che ha l'obiettivo di mantenere l'istruzione della nostra regione ai livelli d'eccellenza che le competono. Le aspettative sono le solite, le aspettative che sia un anno scolastico buono, un anno scolastico di qualità come è sempre stato e un anno scolastico all'insegna di una delle più grandi novità degli ultimi anni, l'applicazione della legge 107, detta anche legge sulla buona scuola. Siamo già dopo un anno di applicazione, però stiamo entrando nel vivo con delle novità di grande rilievo. Pronta ad andare in archivio, quindi, un'estate tra le più difficoltose per l'ufficio scolastico, trovatosi a gestire alcune situazioni di grande tensione. Il concorsone riservato agli insegnanti e che ha fatto incetta di bocciati il caos trasferimenti dovuti al decreto della buona scuola, la penuria di dirigenti scolastici e personale ATA, hanno seriamente rischiato di non permettere un regolare inizio delle lezioni, anche se la situazione per il momento sembra essersi stabilizzata. Noi siamo impegnati a garantire l'inizio regolare delle lezioni. Stiamo lavorando a sprombattuto, diciamo così giorno e notte quasi, per garantire l'inizio dell'anno scolastico regolare. Il concorso sta andando avanti. Per la prima settimana, però, non mancheranno alcuni disagi per gli studenti. Come previsto dal decreto ministeriale, infatti, per le nomine di ruolo c'è tempo fino al 15 settembre, con il rischio che diverse classi si trovino con supplenti o con orario ridotto almeno fino a giovedì, quando invece poi, salvo clamorosi dietro fronte, il quadro docenti dovrebbe essere finalmente completo. Noi stiamo lavorando su alcune classi concorso per accelerare il più possibile e speriamo di arrivare in tempo, ma in tempo per le nomine di ruolo. Però un conto è la nomine di ruolo e un conto è l'avvio dell'anno scolastico, perché i dirigenti scolastici, laddove non potranno far fronte con insegnanti vincitori di concorso o con insegnanti, diciamo così, titolari, possono sempre nominare insegnanti supplenti sul cosiddetto avente diritto, cioè un termine tecnico per garantire che l'anno cominci. Poi noi cerchiamo di arrivare in tempo utile perché il 15 e il 12 siamo con tutte le pedine a posto.